Ma, senti, io, tu parli appunto del fatto che sei distratta, abbiamo scoperto che sei distratta, ecco, però, di Borriello hai detto che quando l'hai conosciuto non sapevi che fosse un calciatore, tra l'altro anche Iliola Di Blasi non sapeva che Totti fosse un calciatore quando l'ha conosciuto e anche le 700 ragazze che sono andate con Cassano non sapevano assolutamente che fosse un calciatore, quindi, voglio capire, com'è possibile questa cosa? Ma io veramente non lo sapevo, cioè io ho visto sto figo, cioè, no, io ero tre mesi che ero in Italia, no, non lo sapevo davvero, non c'era solo lui, c'era, ero il billionaire Era il billionaire? Era il billionaire, era da tre mesi che ero, e quando io sono arrivata facevo alla ragazza immagine in discoteca, che in realtà mi hanno portato all'Argentina qua dicendomi che facevo la modella e mi hanno sbattuto per 50 euro dentro le discoteche Al billionaire? No, al billionaire no, altre discoteche nella riviera Romagnola, poi è arrivato questo mio amico gay, io sono andata via perché in Argentina non c'è questa cultura delle discoteche E quindi non capivo bene, sono scappata via, sono andata tre mesi, due mesi in Sardegna, c'era questo mio amico gay che ci ha ospitato in casa E io ero sulle scale del bagno e c'era Marco Borriello, però io non parlavo neanche l'italiano, Marco Borriello, Bobo Vieri e Inzaghi, c'erano tutti, tutte e tre lì a parlare Ma io davvero non sapevo chi era nessuno E poi è nata la liaison No, poi l'ho visto, lui è venuto, mi ha parlato, io non sapevo, però ha detto che è bello Sì, poi dopo una settimana l'ho saputo, però lui non me l'ha neanche detto Ah, lui non ti ha detto niente? E sai che comunque i calciatori hanno questo, come si dice, cioè sono un po', non so come si dice in italiano Sono un po' non riservati, ma prevenuti nei confronti delle belle ragazze nelle discoteche Perché in Sardegna si sa mai che magari... Perché pensano che gli vogliano fregare i soldini, capito? Eh Ma che comunque succede... Anche giustamente Succede, esatto No, perché succede abbastanza